ciao a tutti in questo video confuto un'obiezione scorretta di livius che però reputo rilevante perché è un'obiezione che contiene un equivoco che potrebbe generarsi in diverse occasioni in molti casi e quindi lo analizzo un attimo e mostro la sua erroneità allora secondo il suo argomento la sua obiezione vi sarebbe un movimento e io stesso l'avrei affermato all'interno dell'ontologia di severino perché quando dico che un oggetto x in t1 è in un certo posto e poi in t2 si trova in un altro luogo comunque vi sarebbe una trasformazione del posto cioè la collocazione dell'oggetto sarebbe diversa se non che e io per commentarlo leggo anche proprio le sue parole lui ha detto se l'oggetto a è a t1 al tempo t1 ed è nel posto p1 ed è a t2 al tempo t2 in p2 se p1 è diverso da p2 allora è chiaro che le porzioni di spazio p1 e p2 si sono trasformate al tempo t1 p1 era a e p2 vuoto cioè senza a e in t2 più uno vuoto e p2 uguale a ciò dunque è trasformazione di due luoghi spaziali allora quando io l'ho detto diverse volte la realtà che appare secondo l'ontologia di severino è un insieme di contenuti non di oggetti fisici non di oggetti unitari e lo spazio non è uno spazio fisico ma coincide con l'estensione sensibile dei vari momenti che appaiono quindi la realtà è come se fosse un insieme di immagini 3d e l'estensione spaziale coincide con le stesse con l'estensione visiva e tattile del contenuto fenomenologico immediato prendiamo ad esempio la mano la mia mano allora stando all'ontologia di severino questa non è una mano fisica questo non è un corpo fisico ma è un insieme di colori forme ed altre qualità sensibili che assemblate insieme congiunte insieme determinano l'interpretazione la persuasione che questo agglomerato di qualità sia un oggetto fisico o ciò che rimanda all'esistenza di un oggetto fisico quindi la cosiddetta mano in t1 che è in questa posizione non è la stessa che è presente in t2 la mano complessiva è l'insieme eterno di tutte le immagini che la costituiscono quindi è un'identità complessa che include in sé molteplici configurazioni eterne e diverse tra loro nessuna delle quali diventa l'altra ora in t1 questa configurazione che io chiamo mano è qui in questo punto della dell'immagine 3d complessiva di t1 in t2 questa che io interpreta ancora come mano che si sarebbe spostata è un insieme di qualità che è rispetto a t1 in un'altra posizione ma in sé stessa non si è spostata era da sempre in quest'altro punto rispetto a quell'altro agglomerato di qualità che chiamiamo mano in t1 e quindi non c'è uno spostamento perché è eternamente la mano di t1 in t1 in quel punto lì ed è eternamente la mano di t2 in quel punto lì dell'immagine complessiva di t2 non c'è un movimento non c'è uno spostamento e ho fatto anche proprio il video sul problema della causalità mostrando a maggior ragione che in una realtà eternalista il concetto di causa non può proprio giustificarsi in alcun modo e anche il concetto di movimento perché appunto il movimento presuppone che lo spazio nel quale avviene un movimento sia sempre lo stesso ed esclude quella prospettiva l'idea che invece non esista un solo spazio ma tanti spazi quanti sono gli istanti e quindi anche se la realtà fosse fisica in una prospettiva eternalista ci sarebbero tanti spazi quanti sarebbero i momenti qual è la differenza con l'ontologia di severino che in una realtà fisica eternalista l'intero spazio dell'universo sarebbe presente nelle sue diverse configurazioni in tutti gli istanti quindi ogni istante sarebbe una porzione tridimensionale statica dell'universo invece nell'ontologia di severino non è che esisterebbe in ogni istante tutto l'universo fisicamente ma solo quella porzione concreta che appare nelle nostre coscienze come un film nel quale esistono solo le scene riprese i contenuti delle scene riprese non è che dentro il film esistano anche tutti gli ambienti i luoghi i luoghi e gli eventi non ripresi per rappresentare in un film l'idea che ci sia una certa storia una certa trama ambientata in un certo paesaggio in una certa in un certo contesto è sufficiente che ci sia una serie di scene che rappresentano l'idea complessiva di un certo scenario come nel teatro è sufficiente che ci siano alcune scenografie coreografie alcune alcuni elementi che rappresentino un certo contesto senza che debba però esistere tutto il contesto e nella sua forma reale e concreta allora e quindi il movimento non sussiste per quanto riguarda le posizioni le collocazioni diverse degli oggetti nel tempo perché non è la stessa mano di t1 che si sposta nei fotogrammi la mano di t1 esattamente come tutto l'ambiente che appare in t1 all'interno di una certa coscienza è un'unica configurazione complessiva che non è le altre e quindi non c'è nessuna cosa della configurazione in t1 che si sposti e vada in t2 o determini t2 ma t1 e t2 è un insieme di configurazioni complessive già eterne già date è chiaro poi lui dice alla fine del commento dice allora in particolare il fenomeno dell'apparire e dello scomparire degli enti contemplata assai in questa teoresi è una sorta di spostamento e dovrebbe spiegarlo uno stesso ente appare e poi scompare cosa si muove come perché ribadisco l'alternarsi delle cose non può che essere una sorta di movimento o spostamento per forza lo spieghi se vuole allora intanto la prima parte del commento è stata ampiamente confutata ora riguardo all'apparire e allo sparire allora se tu pensi io l'avevo già spiegato pure in un video dove ho spiegato che la coscienza dell'apparire infinito sperimenta anche verticalmente tutti i fotogrammi non solo orizzontalmente allora l'apparire come strutturato quello che appare è un insieme di momenti eterni possiamo chiamarli fotogrammi per usare una metafora possiamo chiamarle immagini 3d però non appare solo l'immagine il contenuto di volta in volta ma appare anche il suo incominciante apparire e appare anche il suo cessante apparire e questi incominciante cessante apparire sono anch'essi eterni appaiono eternamente nella prospettiva dell'apparire infinito che quindi include già tutte le componenti tutti gli elementi che costituiscono che sono concatenati in modo eterno e costituiscono la processualità apparentemente dinamica dove per apparenza non intendo dire che questo che noi vediamo che interpretiamo come movimento non sia veramente l'apparire e lo sparire anche dell'incominciante del cessante apparire di tutti questi momenti ma che questa dinamicità sia in realtà qualcosa di eternamente statico potremmo dire ma non appunto nel senso che voglia ridurre il movimento a qualcosa che non esiste cioè se con movimento con dinamicità intendiamo semplicemente l'apparire di tutti questi elementi il loro apparire eterno allora il movimento non è negato è negata l'interpretazione nichilista quindi il fluire appare così come appare a noi anche eternamente nella prospettiva infinita che vede eternamente tutte le dinamiche il fluire degli eventi delle situazioni per come le vediamo noi adesso le vede eternamente così in un fluire eterno perché vede tutti i passaggi insieme anche dell'incominciare ad apparire e del cessare ad apparire dove l'incominciare ad apparire è lo rappresento simbolicamente allora voi vedete che ad esempio dai lati della schermata vedete la mano incomincia ad apparire e poi non appare vedete allora allora l'incominciante apparire è come se fosse è una metafora facciamo finta che questo sia l'incominciante apparire del dito allora l'incominciante apparire della mano è un momento eterno il cessante apparire è un altro momento eterno insieme a tutti gli altri costituiscono il fluire e quindi l'incominciante e il cessante apparire ma non c'è nessun movimento non c'è nessuno spostamento nel momento nel fotogramma come possiamo chiamarlo nell'incominciante apparire lo ricordo è una metafora l'incominciante apparire è eternamente lì quando poi appare il resto anche il resto era già eternamente nei fotogrammi cioè immaginiamo che questo fotogramma dove ancora non appare la mano è eterno incomincia ad apparire la mano ed è un altro momento eterno appare la mano ed è ancora un altro momento tutti questi momenti immaginiamo che appaiono tutti insieme il non ancora essere presente della mano che appare l'incominciare ad apparire della mano l'apparire della mano e poi di nuovo il il cessante apparire di quello che era apparso tutti questi momenti fissi, fermi, eterni che altro dire quindi? che ci sono degli equivoci in quelle obiezioni caro Livius e spero adesso che sia molto più chiaro il fatto che non c'è nessun movimento nessuna dinamica nichilista al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti